Le notevoli criticità del sistema sanitario agrigentino, le problematiche che riguardano il San Giovanni di Dio e soprattutto i disagi per gli utenti, legati ad esempio al pronto soccorso e alle lunghe liste d'attesa. Diverse le prese di posizione della CGL di Agrigento. Adesso è aggiungiamo finalmente un proficuo incontro tra alcuni esponenti del sindacato CGL SP e Funzione Pubblica, tra cui Piero Mangione, Antonino Buscemi, Antonio Cutugno e il commissario straordinario dell'ASP, Salvatore Messina. Ha focalizzato le problematiche principali su cui intervenire e dunque per cercare immediate soluzioni. Entro la fine del mese di marzo, sulle liste d'attesa, si procederà ad una sperimentazione a Canicattì, mentre entro l'anno funzionerà il centro unico provinciale di prenotazione, il cosiddetto CUP, con la messa in rete di medici di famiglia, ambulatori e ospedali per informare in tempo reale l'utente sulla sede che ha disponibilità di ricevimento. Relativamente al servizio di assistenza domiciliare integrata, il manager Messina ha recuperato i ritardi della precedente gestione, attivando il bando di gara per assicurare l'assistenza a 3.000 cittadini, attraverso una società ad hoc. Per tutti gli altri sarà l'ASP stessa a garantirla. La problematica più spinosa rimane a tutt'oggi quella dell'intasamento dei vari pronto soccorso, più volte denunciato tra l'altro dalla stessa CGL. A tal fine è stato assicurato il PPI, punto di primo intervento, da affiancare al pronto soccorso per indirizzarvi tutti i codici bianchi che troveranno in futuro assistenza nel progetto di potenziamento delle strutture territoriali. Infine, a proposito dell'ipotesi di costituzione del punto territoriale di emergenza, PTE, da attivarsi nell'ex struttura che ospitava il San Giovanni di Dio, la CGL-SP e Funzione Pubblica, hanno manifestato delle perplessità per possibili disguidi circa il ricevimento di cittadini con sintomatologie che richiedono l'immediato ricovero nei reparti ubicati nella nuova sede di contrada consolida. Certo, dopo questo momento di convergenza di intenti, adesso è necessario monitorare la situazione, come evidenzano in una nota i tre sindacalisti, in modo che dalle parole si passi ai fatti concreti e definitivi.